Finita adesso la partita contro Agrate Usciamo sconfitti portando a casa un punto Devo dire che è stata un po' come tutta la stagione, alti e bassi Però devo dire che è finita comunque col sorriso Perché dal mio punto di vista abbiamo finito una bellissima stagione Dove è stato un onore arrivare sempre in palestra divertendoci, col sorriso E per questo personalmente ringrazio tutte le atlete Giorgio in primis che da cui ho imparato tantissimo E tutta la società Grazie mille e buona estate